Non poteva esserci un momento migliore per andare in vantaggio Un gol bellissimo da manuale E ha avuto subito un grande impatto sull'incontro Effettivamente ha ripagato il mister della fiducia che gli ha dato mandandoli in campo Sono in vantaggio di un gol Mai darli per spacciati Il pallone dentro